Queste due bestie, lui e il raccogliettore di Olive, nei primi anni 90 venivano a casa mia perché lì si lavorava, si pensava gli schiacci. Io che già allora ero avanti, avevo... Tutte le pareti, tanto è stato... Le pareti, degli artisti... Orribili! Giovani, emergenti, no? E allora loro, questi due deficienti, si fingevano di mostrare interesse per i miei quadri, si metteva lì Aldo, si metteva lì così... Aldo, cosa dici di questo quadro? Vomitava la grande... Oppure gli mettavamo al contrario i quadri e lui non se li accorgeva, capite? Tanto sapeva di arte questo qua. Non si accorgeva, ci eravamo due o tre quadri e diceva Giacomo, vedi qualcosa? Lui, no, bene, bene. Non vedi la firma in alto là? Quei quadri lì si distinguevano, sopra e sotto, solo dalla firma.